Mi fa terribilmente incazzare Clint Eastwood, che a 91 anni ancora riesce a dirigere e interpretare film con tale perizia. Ditemi dove devo firmare, veramente. Ieri sono andato al cinema a vedere la sua ultima opera, Cry Macho. Mea culpa, non ho mai parlato direttamente di Clint Eastwood su questo canale. Devo rimediare, assolutamente, sia per quanto riguarda le sue produzioni da regista, sia per quanto riguarda le sue performance da attore. Soprattutto con Leone. Un giorno, quando avrò il coraggio, mi cimenterò in una monografia su Sergio Leone. Ho già paura per quel giorno, anche perché non sono affatto un esperto di western. Qui ci troviamo davanti ad un road movie con ambientazione western che potrei definire classico. Quindi personaggio va da punto A a punto B e viceversa. È un film che è riuscito immediatamente a farmi entrare all'interno di quell'ambientazione. Per quanto mi riguarda, non è facile, anche perché non amo eccessivamente il western. Non è facile per il sottoscritto riuscire ad entrare in quelle dinamiche, farmi respirare quei tempi. E invece qui ho notato, innanzitutto, un utilizzo pazzesco della fotografia. La fotografia, veramente stupenda, i cambi anche da notte a giorno. La penombra all'interno di questa casa del protagonista, che è una casa senile. È un personaggio, ovviamente, verso la fine dei suoi giorni. A tratti mi ha ricordato anche una storia vera di Lynch, con le dovute distinzioni. Anche quella era effettivamente un road movie con un protagonista anziano. Ovviamente, dal punto di vista formale, Clint Eastwood non sbaglia un colpo. Ed ho percepito tutto. Quindi, la stanchezza di questo personaggio ogni tanto deve riposarsi, ovviamente. Anche il sapore di certi cibi che a un certo punto entrano all'interno della narrazione, perché un personaggio comincia a portarlo ora, ad esempio, la colazione, questo caffè. Un po' anche, se vogliamo, Scuola Tarantino, che a sua volta era Scuola Leone, chiaramente, di cui Eastwood è stato uno dei più grandi rappresentanti, quindi indubbiamente è stato anche influenzato. Ma questa enfasi sul cibo, la classica colazione all'americana, anche se poi parte dell'ambientazione è in Mexico. Quindi bacon, uova e caffè bollente. Veramente ero lì con loro. Dunque, il film non è esente da difetti. Non farò spoiler in questa recensione, perché non credo ce ne sia bisogno. Semplicemente credo che Eastwood abbia leggermente sottovalutato una cosa. Purtroppo non è più credibile in determinate situazioni data l'età. Clint Eastwood è un uomo di 91 anni, lo ripetiamo. Nella narrazione, presumibilmente, ne ha di meno. Ma anche fossero 70, 75, 80, comunque si vede anche che è un uomo che deambula quando tenta di tirare un cazzotto, insomma, è un po' imbarazzante. Ovviamente le controfigure nelle parti in cui cavalca sono molto evidenti, quindi sono tutte riprese distanti per non far vedere il volto della controfigura. e poi c'è il mezzo busto, oppure il primo piano, in cui si vede lui che fa così... Vabbè, probabilmente non lo so, su quei giochetti di Luna Park. Ovvio, eh, ragazzi? Ovviamente non mi sto lamentando di questo. Però il punto qual è? Che ci sono delle soluzioni all'interno della narrazione che prevedono comunque una certa forza anche da Latin Lover da parte di questo protagonista, nel senso che due punti essenziali della trama convergono proprio sul fatto che lui sia ancora un uomo affascinante che riesca ad attirare a sé l'interesse femminile. inizialmente per quanto riguarda l'ex compagna del suo datore di lavoro che comunque si pone ad un certo punto in chiave sessuale con lui e questa cosa tra l'altro fa anche partire una sorta di vendetta che porta la donna ad inviare un emissario alle calcagne di Clint Eastwood del ragazzo che sta riportando dal padre. La storia fondamentalmente è questa. Clint Eastwood all'interno di questo ranch ha sempre lavorato con i cavalli, è stato anche un grande campione, eccetera, ha avuto vari problemi in seguito al decesso di un incidente stradale della sua famiglia, alcolismo, abusi di ogni tipo e ovviamente non è più performante data anche l'età. Quindi viene licenziato, un anno dopo questo suo datore di lavoro torna per chiedere un favore. Devi riportarmi il mio figlio che adesso è in Messico con la madre però adesso non vi sto a dire, per varie motivazioni deve tornare qui con me perché lì lo trattano male, eccetera, soltanto che ovviamente ci saranno delle problematiche durante questo viaggio e quindi lui a un certo punto decide di affrontare questa sfida perché comunque gli deve molto. L'ha sostenuto in un momento difficile, eccetera. Ecco, un altro punto importante della narrazione è centrato sul fatto che una donna incontrata lì in Messico comincia a provare una certa attrazione per Clint Eastwood. Adesso, per quanto ovviamente sia ancora un uomo affascinante ha 91 anni e per quanto una narrazione possa dimostrare o possa essere stato scritto come un uomo più giovane dell'età reale comunque sia, è abbastanza difficile che una donna non veda effettivamente un vecchio e quindi provi per lui al massimo compassione, simpatia, tenerezza. Certo, anche una donna di 50 anni o anche leggermente più giovane perché una delle due probabilmente è anche più giovane può provare interesse per un novantenne però due all'interno della stessa storia che comunque dura qualche mese, anche meno non è proprio credibilissimo. Quindi questa cosa a un certo punto un po' cozza perché non ci credi molto, parliamoci chiaro. Quindi non so se sia stata una sorta di sopravvalutazione da parte di Clint e forse un attore leggermente più giovane che comunque era un film senile necessitava di un attore anziano ma forse non novantenne. Ecco, queste sono state secondo me le cose più problematiche oltre, diciamo, un finale la soluzione, diciamo, nell'ultimo duello ecco che è abbastanza fantascientifica questo crime macho è questo gallo da combattimento che appunto è gestito da questo figlio che a un certo punto se ne esce con una sorta di attacco volante molto strano quindi ed effettivamente poi risolvono così tutte le questioni arrivando poi verso l'epilogo tolto questo che quindi a un certo punto mi ha fatto dire beh, ok però non ti sto credendo molto, Clint tolto questo il film è indubbiamente coinvolgente nonostante sia gestito con un ritmo sostenuto nel senso che, ripeto, si prendono i loro tempi, questi due protagonisti perché stanno affrontando un viaggio particolare c'è la dogana che rompe i coglioni ci sono gli organi di vigilanza sia americani che messicani che si mettono di traverso c'è della corruzione c'è la malavita che cerca di impedire appunto questo trasferimento del figlio e c'è anche una sorta di percorso di crescita del figlio la cosa più interessante levato il comparto formale che, ripeto, è ottimo e riesce a non farti percepire comunque la lentezza narrativa giusta giusta perché appunto devi far pesare un po' allo spettatore il passare dei giorni la stanca di questi protagonisti soprattutto del Clint ovviamente è l'altro ragazzo quindi è virile è vigoroso c'è anche una crescita di questo ragazzo che comincia a capire alcune cose della vita di suo padre di sua madre chiaramente comincia anche ad entrare in contatto con quella che è la pulsione sessuale quei piccoli amori giovanili tutte tematiche trattate con una dolcezza che ho apprezzato e anche la rivelazione finale che comunque a un certo punto vedi la rassegnazione nel volto di questo ragazzo per un motivo che non sto qui a dirvi quindi nel complesso è un film che secondo me va visto perché vedere un uomo di 90 anni che gira in questo modo e soprattutto che ti fa respirare aria di rodeo aria di western ad oggi è ancora difficile da trovare a tale livello anche quando la storia fondamentalmente è banalissima quindi ripeto dobbiamo prendere questa persona e riportarla qui questo è giorno dopo giorno con qualche vicissitudine ma sono veramente tre righe di soggetto quindi è importante anche per capire come si può costruire bene un certo tipo di epica western anche non mostrando nessun tipo di gesto epico anzi e comunque non annoiare mai lo spettatore perlomeno per quanto mi riguarda forse un film un po' deboluccio ecco un po' deboluccio perché il soggetto è quello che è i plot twist non sono nulla di eccezionale cioè non è interessante appunto che fa riflettere un po' sulla responsabilità genitoriale ma soprattutto sui secondi fini e anche sulla presa di coscienza di un adolescente che è dovuto crescere prima del tempo quindi dice qualcosa questo film non è un film vuoto è un film leggermente morbido ecco con un altro attore più giovane anche sarebbe stato lo stesso forse sarebbe stato più credibile in certe cose ecco di determinate risse anche lì ci sono un po' delle soluzioni un po' a cazzo cioè a un certo punto adesso non vi sto a dire nello specifico però questo ragazzo viene inseguito e con una sorta di velocissima soluzione questo assalitore viene a sua volta assalito da un gruppo di persone che credono istantaneamente alla parola di questo ragazzino e che quindi continuano a scappare cioè sembra anche un po' fumettistica la costruzione di alcune scene di alcune soluzioni più che altro il pericolo percepito c'è soltanto in un paio di casi ma anche questi villain diciamo così sono un po' macchiettistici e la soluzione finale ripeto che salva i due personaggi grazie a questo gallo volante esemplifica tutto questo mio discorso quindi un film secondo me ottimo dal punto di vista formale veramente per chiunque voglia girare un western e cercare di fare immedesimare lo spettatore all'interno di questo sfondo deve vedere ma nel complesso un film un po' tenue che probabilmente è anche in linea con il tipo di temperamento di questo personaggio che comunque affronta la vita con serenità non ha molto da perdere perché ha già perso tanto e ritrova un po' di vigore grazie a questa missione capitata anche suo malgrado addosso alla sua persona ci vediamo prossimamente probabilmente per la recensione di Sorrentino e devo ancora fare quella su verdone quindi ci vediamo presto un po' Grazie.